Musica Denunciato il presunto autore dei furti messi a segno nelle chiese di Gabice e Monte Labate a Pesor arrestate due donne per un colpo messo a segno nella casa di un'anziana recuperata la refurtiva. Trenta alberi da battere e gabbionate alte fino a quattro metri, comitati ambientalisti e residenti protestano contro il progetto della ciclo pedonale dell'Arzino. Sono estere fatta, non capisco la ragione di questo progetto. Un esempio di fedeltà, umiltà e dedizione, un punto di riferimento per militari e cittadini, il comune di Fano consegna una benemerenza al comandante dei carabinieri Antonino Barrasso prossimo alla pensione. Inaugurata la settimana delle Marche all'Expo di Dubai, il vicepresidente Carloni ha firmato il memorandum per rilanciare l'amicizia con gli Emirati insieme alle Camere di Commercio. Tra poco dopo il telegiornale torna primo cittadino con il sindaco di Vallefoglia, Palmir Ucchiello. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia in apertura alla cronaca con l'operazione della Polizia di Stato che ha arrestato due giovani donne che avevano appena compiuto un furto in un appartamento. Ottenevano la fiducia di persone anziane e sole per poi distrarre la vittima facendo in modo che una delle due riuscisse a rovistare nelle stanze per poi rubare soldi e gioielli. Sono state arrestate in flagranza di reato dalla squadra mobile di Pesaro, le due donne giovani e insospettabili che avevano appena messo a segno un furto in una casa del centro storico. Gli investigatori, dopo aver notato dei movimenti sospetti, le hanno aspettate all'uscita dal condominio, le hanno bloccate e identificate. Nel frattempo hanno controllato la loro auto in attesa di farle risalire a bordo nelle immediate vicinanze dell'appartamento. Tuttavia la vettura, con una repentina e pericolosa manovra di accelerazione, urtando anche un'auto in sosta, si è allontanata velocemente riuscendo a far perdere le tracce. L'auto è stata rinvenuta poco dopo, abbandonata in un parcheggio del centro e sequestrata dalle volanti. Le due giovani invece sono state bloccate con addosso ancora all'aria furtiva, consistente in vari monili in oro appartenenti alla vittima. Gli oggetti sono stati sequestrati e restituiti alla legittima proprietaria. La Polizia di Stato ricorda di non far entrare gli estranei in casa. Infatti, per compiere questi furti, i malviventi utilizzano delle strategie particolarmente subdole e insospettabili. Approfittano della minor capacità di difesa delle persone anziane e fragili, carpendone la fiducia con modi gentili ed educati. A volte leggono i nominativi presenti sui citofoni o nelle cassette delle lettere per poi ripeterli alla vittima, sola in casa, dicendo di dover parlare con lei. Inventano scuse plausibili, si spacciano per funzionari di enti pubblici oppure si dicono interessati all'acquisto di un appartamento di quel condominio, sfruttando così la scusa di chiedere di visionare i locali. Scuse simili a quelle utilizzate in quest'ultimo colpo. Questa mattina il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti effettuati dagli agenti, revocando il reddito di cittadinanza percepito da una delle due. Poi però sono state rimesse in libertà perché entrambe hanno dei figli piccoli che hanno ancora bisogno di essere accuditi. Il giudice ha applicato nei loro confronti il divieto di dimora e di accesso nella provincia di Pesaro. Invece a Gabice Mare i carabinieri hanno denunciato due persone già con precedenti penali. La prima indagine riguarda un furto commesso a gennaio all'interno della chiesa di Santa Maria Annunziata. Fin dal principio il colpo appariva quasi identico a quello avvenuto appena due ore più tardi nella chiesa di Osteria Nuova. A Gabice, così come a Montelabbate, uno sconosciuto si era introdotto nel luogo di culto e dopo aver forzato il lucchetto della cassetta dell'offerta si era appropriato di circa 120 euro. L'autore dei due episodi, a parere degli investigatori, era lo stesso, un cittadino argentino che è stato deferito alla Procura della Repubblica. In azione all'interno del supermercato Conad il Tavollo, un borseggiatore che il 7 gennaio scorso aveva sottratto dalla borsa di una sessantenne il portafogli contenente 160 euro e tutti i documenti. Ad incastrare il presunto malfattore sono stati militari che a inizio febbraio si trovavano a Pesaro quando transitando davanti a un altro supermercato hanno riconosciuto il presunto autore del borseggio risalento un mese prima. I carabinieri, dopo essersi fatti inviare dai colleghi i fotogrammi del furto, hanno constatato come il suo abbigliamento coincidesse, nonostante il tempo trascorso, con quello dell'autore del reato ripreso in azione alla Conad di Gabice Mare. L'uomo, un italiano, è stato dunque denunciato in stato di libertà. E adesso ci spostiamo nella zona di Gimarra, dove i residenti e i comitati si battono per modificare il progetto attuale della ciclovia dell'Arzilla. Sentite. Ambientalisti residenti uniti contro la ciclovia dell'Arzilla. Il progetto, così come redatto da ASET e avvallato dall'amministrazione comunale, non piace a molte persone che questo tratto lo frequentano abitualmente. Infatti, come ci spiega Claudio Razzi della Lupus in Fabula, la società dei servizi ha già appaltato l'opera e non vuole cambiare il progetto, che secondo l'associazione ambientalista ha un significativo impatto ambientale e si traduce in un utile spreco di denaro pubblico. Ci saremo aspettati, ha detto Razzi, che il progetto della ciclo pedonale redatto su indicazioni della precedente giunta venisse modificato per trovare soluzioni tecniche alternative alle invadenti gabbionate alte fino a 4 metri e lunghe 70, che comporteranno l'abbattimento di 30 alberi di alto fusto. Sarebbe ancora possibile modificare il progetto che prevede la pista di 3 metri, più caditoi e nuova illuminazione, ma serve una volontà politica e una sensibilità ambientale, ha concluso, che sembra non esserci. Ovviamente il Consiglio Comunale nel 2018 ha chiesto che il progetto venisse modificato salvaguardando gli alberi e riducendo le dimensioni della pista ciclabile. Questo non è stato fatto. Dopo successivi incontri con l'assessore, che non ha portato nulla, abbiamo incontrato il sindaco due volte, che a parole si è dichiarato disponibile a ridurre la dimensione della ciclabile in modo da salvaguardare la scarpata. Tuttavia ASET è stato irrimovibile da questo punto di vista per non cambiare il progetto e il sindaco d'altronde non ha fatto nulla per chiedere ASET di modificare il progetto. A novembre 2021 ha proseguito Razzi, ASET ha presentato uno studio geologico, dopo aver appaltato il progetto, il quale stabilisce che questo versante è instabile e quindi la gabbionata sarebbe comunque necessaria, anche se in più di 20 anni non si è verificato alcun cedimento. Tuttavia, se il Comune ritiene che sia necessario sostenere la scarpata, allora ci chiediamo perché deve essere fatto solo su questi 70 metri e non su tutto il percorso della ciclabile. Quindi qui c'è una contraddizione. O la scarpata è instabile, allora la cestonata va da là, cioè va fatta per almeno 200 metri. Altrimenti bisogna che lasciano un progetto così com'è. La pista ciclabile potrebbe essere allargata di un altro mezzo metro andando a interessare il dosso, quindi facendo un unico piano qua, che sarebbe ugualmente percorribile in sicurezza da pedoni ciclisti e verrebbe salvaguardato questo ambiente naturale. Giorgio, anche quello alle sue spalle è uno dei tratti contestati? Esatto. Allora, qua alle mie spalle abbiamo uno dei tratti che in questo progetto è stato stralciato. Invece noi, come Arzilla Resistente, chiediamo che anche questo tratto venga sistemato con lo stesso fondo che utilizzeranno nei tratti 2 e 3, cioè quelli oggetto dell'intervento con gabbionate eccetera eccetera, che noi contestiamo. Però questo tratto che invece è un tratto di congiunzione tra il mare e via Paleotta, che sono circa 200 metri, chiediamo che venga sistemato con lo stesso fondo e con un'illuminazione più adeguata. Qua già ci sono dei lampioni, però sono dei lampioni abbastanza insufficienti, per cui questa è una cosa che invece come comitato chiediamo in maniera forte. E diversi sono i cittadini che questa mattina si sono riuniti per far sentire la loro voce e lanciare appelli al comune di Fano. Sono qui anche per ribadire che non vedo la necessità di stravolgere questa piccola osi che abbiamo a due passi dalla città e che regala delle emozioni naturalistiche meravigliose. Poi comunque la natura è di tutti, è anche passata una legge che dice che anche il pubblico deve mantenere e deve dare delle risposte e non è più insomma possibile stravolgere, tagliare e senza ascoltare le nostre voci. Faustina, lei da residente che cosa ne pensa? Io da residente voglio porre proprio questa cosa, che io sono una cittadina e non faccio parte di nessuna associazione, però abitando qui, avendo l'opportuna di abitare qua, io ho conosciuto questo percorso e lo percorro da 30 anni e io vorrei che questo percorso venisse conosciuto da più cittadini possibili. Venite a vedere quel di cui stiamo parlando perché qui magari uno pensa ah ma al solito discorso non vogliono far fare niente, cose varie. No, noi questo posto vorremmo che lo frequentassero più gente possibile come già lo stanno facendo perché qui vengono a correre, vengono a fare le passeggiate, ci sono gli anziani che vengono, ci sono persone addirittura con disabilità che passano con le carrozzine. È un posto che, specialmente d'estate, che qui è tutto ombreggiato ed è fresco, la gente ne approfitta per andare verso il mare ed è bello insomma. Sentite gli uccellini, qui d'estate è così. Io qui ci ho visto gli istrici, c'è l'airone cenerino che passa, delle volte lo vede strecciare qua lungo il canale, ci sono le papere. Lei venga a maggio, a maggio qui è pieno di lucciole. È fantastico questo posto, è per questo che ci stiamo battendo perché la natura sia predominante in questo posto. Se poi lo vogliamo fare il selciato più liscio, vogliamo mettere due luci, va benissimo, nessuno lo contesta ma lasciamo questo posto che con i passeggi è l'unico posto al centro di Fano che ha un po' di natura e che uno può raggiungere da qualsiasi parte perché la può raggiungere dalla Palleotta, la può raggiungere dalla Cantina Morelli, la può raggiungere dal mare, arrivare fino ad Attano. Cioè io sono estere fatta, non capisco la ragione di questo progetto. Il forte vento ha provocato qualche disagio in particolare a causa della caduta di piante e rami sulla sede stradale. A Ponte degli Alberi, nel comune di Fossombrone, è stata chiusa al transito la Flaminia per la caduta di due piante sul posto, i tecnici della provincia di Pesero Urbino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Una persona sempre disponibile che ha servito la comunità con abnegazione e professionalità. Con questa motivazione il sindaco di Fano Massimo Seri ha consegnato un diploma di benemerenza al luogotenente Antonino Barrasso, comandante della stazione dei Carabinieri di Fano, prossimo alla pensione. Il servizio è stato curato da Filippo Bucci. Persona estremamente presente, sempre disponibile e generosa, precisa sul campo di prevenzione e protezione, umanamente empatica. Ha sempre dimostrato di essere punto di riferimento per le forze dell'ordine e per la cittadinanza. Inizia così l'attestato di benemerenza consegnato all'interno del comune fanese al luogotenente Antonino Barrasso, comandante della stazione dei Carabinieri di Fano, che sabato scorso è stato accolto dal sindaco Seri in vista della sua pensione il 6 marzo prossimo. 60 anni, di cui 40 nell'arma dei Carabinieri, Barrasso ha servito la città fanese per ben 29 anni e con questa cerimonia amici, parenti, colleghi e politici hanno voluto ringraziarlo per la sua abnegazione, serietà e professionalità. La città di Fano mi ha aiutato perché ovviamente nel mio compito di Carabinieri, di comandante della stazione, avere a che fare con gente così onesta, laboriosa, rispettosa delle regole è un aiuto notevole. e lasciatevelo dire, per uno che viene dal sud, la differenza la conosce bene insomma. Dunque prossimo alla pensione, il luogotenente rimarrà sempre al lavoro per la città e di chi ha bisogno. Infatti Barrasso ha fondato un'associazione dedicata alla protezione delle donne maltrattate. Il riconoscimento è uno stimolo a continuare, anche se con vesti diversi, Il mio impegno, non a caso parlavo di fedeltà, che continuerà su altri fronti, sul volontariato o su una forma associativa che stiamo per elaborare e che presto vedrà la luce. Alla cerimonia presente anche il prefetto Tommaso Ricciardi, la sottosegretaria al Ministero del Lavoro, Rossella Accoto, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gianluca Citroli e il nuovo comandante Mario Facciolla, che prenderà poi il posto di Barrasso. Ho avuto una squadra di Carabinieri brava, molto collaborativa. Ho fatto con molto entusiasmo un lavoro con i giovani Carabinieri, soprattutto, che mi dava sempre molto entusiasmo. Fanno avrei tanti episodi da poter raccontare. Quello che col tempo ho imparato, soprattutto comunque, è l'ascolto. Stare vicino alla gente e ascoltarla non è una perdita di tempo. Nel mio lavoro spesso è la soluzione di alcuni problemi. Nelle mie esperienze, quando abbiamo avuto necessità anche di intervenire in modo autorevole, la gente ha rispettato quello che chiedevamo in nome ovviamente di norme, di leggi o di anche ordinanze sindacali. Quindi a questo sono grato a tutti, a tutti veramente i cittadini di Cana. A ringraziare, a nome di tutta la cittadinanza fanese, è stato il primo cittadino Massimo Seri. Il luogotenente Antonino Barasso è veramente stato un bel esempio, perché ha sempre dimostrato sensibilità, equilibrio, attenzione. E' stato un punto di riferimento per tante persone con la divisa, per tanti cittadini. E quindi un sindaco, una città, non può che esserne riconoscente. E questa attestazione, questo incomio civico, è la degna conclusione di onorare chi serve lo Stato con serietà e senso di responsabilità e un modo per dire grazie a tutti i servitori dello Stato. Cambiamo argomento. L'Expo di Dubai è stata inaugurata questa mattina la Settimana delle Marche. È sottoscritto il memorandum tra la regione a firma di Mirko Carloni e le rispettive camere di commercio per rilanciare l'amicizia e i rapporti commerciali con gli Emirati Arabi Uniti. Torniamo a dialogare con gli Emirati Arabi proiettando le Marche in un panorama internazionale. Ha esordito così il governatore Francesco Acquaroli in collegamento da Palazzo Raffaello ad Ancona, da dove insieme al presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e al testimonial della regione il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini ha seguito l'avvio della Settimana delle Marche all'Expo di Dubai. Nella futuristica cornice del Padiglione Italia è stato presentato il programma di eventi della delegazione di imprenditori guidata dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni e contraddistinta dal nuovo brand Marche Land of Excellence. L'obiettivo, come ha spiegato il presidente, è quello di riallacciare un antico rapporto di amicizia con gli Emirati basato su contatti importanti e relazioni proficue che ora, anche grazie alla firma del memorandum, possono tornare a confrontarsi per collaborare a favore dei territori, delle economie e delle nostre imprese. Come dicevamo prima, è uno di quei casi in cui la forma diventa sostanza. Mi accendete il microfono, ok. Dovremmo esserci. Allora, come si dice, 3, 2, 1, go! Noi in realtà riusciamo a riunire le caratteristiche della nostra straordinaria Italia in un territorio molto ristretto e in maniera armoniosa. Il rapporto con gli Emirati Arabi, come dicevo prima, è un rapporto molto importante perché è un rapporto che ci apre a un mercato ma soprattutto riesce a costruire un ponte delle opportunità reciproche che se vissute, se realizzate, possono garantire alle nostre imprese anche una continuità su latitudini che finora per noi erano poche conosciute. La missione a Dubai coinvolge oltre 100 soggetti, tra imprese, università e studenti, sia universitari che delle scuole superiori. Questa mattina, dopo la firma del protocollo, Carloni ha partecipato anche ad un meeting con il presidente della Camera di Commercio di Dubai per prendere accordi di scambio commerciale. Se l'Italia ha rapporti istituzionali ed economici solidi con gli Emirati Arabi Uniti è anche merito delle Marche, ha sottolineato Gino Sabatini, che ha elencato alcuni settori che ne potranno trarre benefici. Tutto il sistema a casa, dal mobile, dal sistema della moda, il TAC, il tessile, sbligliamento calzatura, dal sistema delle start-up innovative che noi abbiamo, non dimentichiamo l'acqua alimentare, che sul biologico, gli Emiratini e quel palcoscenico economico può essere interessante. Sul sistema a casa abbiamo tantissime aziende che possono intervenire, da quelle dell'illuminazione, a quelle dell'arredo, da quelle che realizzano le cucine, ma per le grandi strutture che si stanno realizzando negli Emiratini, logicamente loro possono essere come General Contractor molto presenti e molto attivi sulla moda. E questo protocollo va a valorare tutto quello che è il nostro modello marchigiano da poter mettere in campo. Noi come Camera di Commercio delle Marche siamo e saremo sempre al fianco di qualsiasi iniziativa che va a valorizzare il mondo produttivo delle Marche. Con la regione Marche oggi, con gli amici Emiratini domani, sperando che iniziano dei nuovi rapporti e che possano portare dei frutti importanti per questo periodo di nuova economia che dovremo guadagnare. Tre nuovi appuntamenti per le presentazioni librarie online di Passaggi Digitali, la rassegna promossa da Passaggi Festival che precede l'edizione in presenza in programma a Fano nel mese di giugno. Alla diretta Facebook domani alle ore 19 vede come ospite Paolo Del Debbio, uno dei volti più noti del giornalismo televisivo, che presenterà il suo libro Le Dieci cose coimperato dalla vita, edito da PM, distillato di esperienze personali e di riflessioni. La deportazione del padre in un campo di concentramento, l'infanzia a Lucca, l'esperienza in seminario e nel volontariato, i primi approcci con il mondo del lavoro fino all'esperienza in politica e alla ribalta televisiva. Del Debbio parla del suo percorso di vita e di realizzazioni di se stesso come uomo e come professionista. Vallefoglia si arricchisce di uno spazio denominato Torre dell'Arte. I cittadini potranno visionare libri e documenti per studiare e approfondire le varie tematiche in campo culturale. Nei locali della Torre Civica di Palazzo Mamiani a Sant'Angelo e Lizzola è stato presentato uno spazio dedicato alla cultura denominato Torre dell'Arte Contemporanea di Vallefoglia, la nuova area che si affianca ed integra la sede della biblioteca a servizio anche delle frazioni di Monte Ciccardo e Ginestreto sarà a disposizione di tutti gli appassionati, i curiosi e gli studiosi che potranno visionare volumi e documenti per avvicinarsi all'arte, attivare i laboratori e approfondire le varie materie in campo culturale. Il comune di Vallefoglia, come precisa il sindaco, ha istituito la nuova biblioteca in collaborazione con l'associazione Etra che ha elaborato il progetto, fornito i volumi e allestito lo spazio insieme alla Proloco Cittadina. Nel primo piano della Torre Civica sarà esposta anche un'opera d'arte contemporanea realizzata in occasione del Rossini Opera Festival. L'associazione degli artisti facente capo all'ex Galleria Mancini presterà per due anni questa importante figura che costituirà il punto di partenza di laboratori, workshop e visite rivolte a persone di tutte l'età. Un luogo e un modo per valorizzare la lettura, di valorizzare le radici storiche, valorizzare l'enogastronomia, il paesaggio, le attività culturali, teatrali e musicali. La collaborazione tra l'associazione Etra e l'amministrazione di Vallefoglia, spiegato il primo cittadino, si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, in particolare attraverso l'istituzione del Museo delle Muse e delle Ninfe al centro Giovanni Santi di Colbordolo e la realizzazione di tante iniziative che hanno portato alla scoperta delle bellezze del Comune. Con questo nuovo progetto si rafforza e si arricchisce il nostro territorio. Apriremo il prossimo anno il nuovo teatro Giovanni Santi di 330 posti a Bottega di Vallefoglia. Quest'anno è l'anno dell'inaugurazione del nuovo municipio che realizzeremo a Montecchio e il Palazzo Momiani, dove abbiamo aperto questo, diciamo, pezzo di biblioteca sull'arte contemporanea, specializzata, specifica, che ci consente di rapportarci anche con l'Accademica di Urbino. L'Accademia di Urbino è per noi importante perché Sant'Angelo nella storia, un po' anche come Colbordolo, con Giovanni Santi, Montefabri, con i Conte Paciotti e i rapporti che aveva con Federico. Insomma, valorizzare una città industriale che però ha anche tanto ambiente, tanta cultura, tanta storia e tanta prospettiva futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Passiamo allo sport. Ha trionfato al Palendora di Ancona la mezzofondista fanese Virginia Bancolini, 16 anni della SEF Stamura, che ha vinto negli 800 metri conquistando la medaglia d'oro. La giovane, che ha ottenuto un tempo eccellente, 2 minuti, 13 secondi e 73 centesimi, ha firmato il record personale al coperto e ha festeggiato il tricolore. Virginia è diventata campionista italiana Under 18, anche per la gioia e la soddisfazione del suo coach Fabrizio Dubbini. Invece Riccardo Giacomoni, 14enne fanese in forza all'ASD Bocciofila San Cristoforo, continua a dominare la scena, infatti è tornato da Verona con in tasca un altro oro. Ieri alla Bocciofila Bardolino è andata in scena la prima tappa del circuito Prestigio 2022 e il portacolori della società di Patron Marchionni ha messo in bacheca l'ennesimo trionfo della sua brillante, seppur ancora tutta da scrivere carriera. 12 a 5 è il punteggio con cui Giacomoni ha superato in finale il romano Matteo Simeoni della Bocciofila Boville. Il pargolo, così come viene chiamato in modo simpatico nell'ambiente San Cristoforo, si conferma leader della sua categoria. Bene, complimenti davvero, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in diretta insieme al sindaco di Valefoglia, Palmiro Ucchielli, per una nuova puntata di Primo Cittadino. Dunque, grazie, previsioni del tempo e poi ci ritroviamo qua negli studi di Fano TV a tra poco. Grazie a tutti.